Musica Si è svolto ieri, giovedì 27 gennaio, il seminario ottenuto dal professor Gianluca Gregori, presidente della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche. L'incontro, dedicato al tema del marketing, rientra nel ciclo degli appuntamenti organizzati sul territorio provinciale della Confartigianato, allo scopo di fornire alle imprese artigiane gli strumenti più doni per competere. Marketing quindi come strategia di vendita connessa alla conoscenza del mercato e del proprio settore e come opportunità di formazione innovativa.